Buongiorno ragazzi, oggi voglio farvi vedere, è appena arrivato da poco, questo pacco, che l'ho comprato su Amazon. Praticamente, siccome avevo il problema, avendo una monocorona, una bicicletta elettrica, con il motore centrale della baffanga, salta sempre la catena, quando metto il cambio sulla nona marcia, diciamo che dalla settimana non è in linea, poi vi farò vedere. Allora ho preso questo processo da qua, che non è un impatto che unguida catena. Ecco, in modo che la catena, la direzione sulla corona. Adesso andiamo a montarla in bicicletta e vedremo se funziona. E' in metallo, non è plastica, ma tutto è metallo, quindi diciamo è un passato resistente. Il prezzo è sui 19 euro, che era la più economica, così vediamo se funziona questo sicuro per fare spessore in base al tipo di telaio, questo va montato nel telaio centrale e adesso poi andiamo a vedere. Allora, il problema consiste che quando cambiamo sull'ultimo rapporto è troppo diagonale, si sposta e quindi non la gancia più e cade. Quindi, quelguido catena che ho preso, che è qui, montato così, in teoria dovrebbe tenerla sempre in questa posizione. Quindi lo montiamo e vediamo se effettivamente funziona. Per montare semplice basta svitare queste vite a grubola, va, diciamo, accavalata al telaio, e abbiamo quest'altra vite che ha la regolazione della distanza. Ed ecco qua, una volta montato, vedete? Quindi, attorno al telaio, io ho dovuto allungarlo con una vite, perché è più distanziato, in modo che, come vedete qui, quando la catena si metterà in diagonale, ho già provato, non cade. Così, quando vado fuori di fuoristrada, non ho problema che tutte le volte cade, perché, come vedete, rimane fisso. Spero di essere stato utile a qualcuno e a risolvere il problema come l'ho avuto io. Ciao, ciao!